L'informazione locale su Fano TV al mattino in diretta alle 7 sul canale 17 c'è Occhio ai giornali, la rassegna stampa o meglio la selezione delle notizie più importanti secondo noi che sono pubblicate sui due quotidiani con gli inserti locali, il resto del canino Corriere Adriatico, eccoci qua come sempre, iniziamo questa nuova settimana insieme, iniziamo come di consueto con il santo di oggi, le previsioni del tempo e poi i giornali. Andiamo sul cartello San Simba con il sole esorto alle 5.43 e tramonterà alle 20.46. Velocemente uno sguardo anche alle previsioni del tempo per oggi, come vedete dal sito della protezione civile delle Marche, nella mattinata avremo rovescio temporali sparsi in alto in collina, in montagna, in particolare nelle zone meridionali, nel pomeriggio le precipitazioni termineranno, per la giornata di domani invece il sole su tutta la regione Marche, così come per la giornata del 21, ovvero di mercoledì. Poi tempo stabile, soleggiato, quindi possiamo dire che il maltempo di questi giorni, che comunque qualche danno l'ha fatto come vedremo tra poco, ma la terra ha beneficiato della pioggia che era necessaria assolutamente, quel maltempo è passato. Adesso potremo godere del sole, sole che ancora fa un po' difficoltà però a splendere, come abbiamo visto in questa prima parte soprattutto della giornata, ma che comunque splende sempre anche quando ci sono nuvole in una spiaggia meravigliosa che questa mattina vi presentiamo, che è la spiaggia di Porto Novo. Andiamo subito in diretta dal nostro Edoardo Rubini, ho già detto nostro perché ti abbiamo già preso insomma in sostanza. Allora per questa settimana staremo insieme a te in questa spiaggia meravigliosa, anche se è annuvolata questa mattina, ma la spiaggia che vedo già con un cielo coperto, d'accordo, ma tanto verde, è anche detta Baia Verde? Ma sì. Buongiorno a tutti da Porto Novo prima di tutto, mi chiamo Edoardo, buongiorno. Ma sì, Porto Novo è una perla del Conaro, incastonata tra il verde del monte, come potete vedere, e l'azzurro del mare. Questo azzurro del mare che oggi non c'è perché quando abbiamo un po' di mare mosso tutto si intorbidisce, ma il mare va ammato in tutte le sue forme, nel mare buono, nel mare brutto. Perciò questo è Porto Novo, una contrada del Poggio, il pubblico di Ancona. Allora siamo da Emilia, giusto? Siamo da Emilia, questo è il tuo angolo di paradiso, che è un angolo di paradiso riservato anche ai tuoi clienti, che immagino saranno fedelissimi, ma ci saranno anche dei turisti, immagino. Ma sì, quest'anno ci sono tantissimi clienti anche da fuori, perciò, nonostante tutto questo Covid, però abbiamo dei clienti che, diciamo così, si adattano a questa morfologia di spiaggia, perché purtroppo quando vengono qui da me sanno che quando c'è mare mosso mi porta via tutto, perciò si adattano in prima fila o in secondo, addirittura anche qua dietro, perché ho pochi ombrelloni, ne ho 30, a volte anche 15, però insomma capiscono che qui comanda il mare, comanda il vento, poi comando io. Bisogna adattarci, dai. Senti, la cosa è incredibile, tra l'altro parleremo di mareggiate, ma spostandoci a Fano ovviamente, ecco, quindi gli ombrelloni si spostano a seconda di com'è la situazione del mare, immagino, no? Sì, sì, purtroppo sì, ieri ad esempio è arrivato parecchio mare mosso, noi abbiamo oggi lo stesso, mare da nord, nord-ovest, sta girando verso nord, diciamo così, però questo poco, siccome non abbiamo un riparo, ci porta subito via la spiaggia, e allora le persone piano piano si spostano, però d'altronde questa è la natura, questo è il mare, il mare comanda ed è giusto che sia così. Allora, Edoardo, ci dici soltanto come sarà il tempo oggi a quelle parti? Allora, oggi dovrebbe rimanere nuvoloso, dovrebbe rimanere un pochino così, sarà soleggiato e nuvoloso, però insomma c'è questo venticello meraviglioso da nord, penso che comunque qualcuno potrebbe venire. Dovrebbe rimanere l'ordine questo, un paio di giorni dovrebbe rimanere l'ordine questo. Oh, non sono un meteorologo, faccio il bagnino e faccio il pescatore, però questa è casa mia, la mattina mi sveglio e riusciamo dall'elezione di mio padre tutto quello che è la realtà di questo posto, insomma. Senti Edoardo, allora la prima curiosità, poi dobbiamo chiudere perché siamo in rassegna, come si chiama quella punta laggiù in fondo, dietro di te? Allora, dietro in fondo là, in fondo in fondo c'è Ancona, là c'è il trave, è uno scoglio meraviglioso che è un allevamento naturale di moscioli, poi si viene fino qua giù dove c'è quel bellissimo raggio di sole, mezza valle, zona molto bella, libera, con un sentiero che si scende da sopra. Fatelo con le scarpette, non fatelo con l'infradito che è molto pericoloso. Una zona interdetta, poi raggiungiamo Porto Novo e poi va a finire da quest'altra parte dove c'è il monte, la cappallina, i giacchetti, la torre, la chiesa di Santa Maria di Porto Novo che è la nostra chiesa, il nostro punto di riferimento. Ecco, immagini Edoardo per chiudere che per raggiungere la spiaggia non è come da noi qua, cioè che arrivi con la macchina, parcheggi, fai 5 metri e arrivi in spiaggia. Qui è un po' più complicato. No, sì, qui ci sono dei punti dove arrivi qua in macchina parcheggiando tranquillamente, ma ci sono delle zone come Mezza Valle, che è una zona molto bella, però ci sono dei sentieri fatti bene, ma fatti e percorsi con delle, come dicevo prima, faccio col dito così, con delle scarpe adatte, non con l'infradito. E ci sono delle zone interdette dove non vanno assolutamente, non me non ci devo andare, invece purtroppo è talmente bello che la gente ci va lo stesso. Bene Edoardo, impareremo a conoscerti in questi giorni, impareremo a conoscere questo angolo di paradiso delle Marche, grazie e a domani. I giornali, cominciamo da Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, avanti con i vaccini porta a porta. Uno su tre senza scudo a settembre, le agende degli hub saranno compresse nelle prossime due settimane. Da agosto un camper itinerante per ogni area vasta, si inizierà dai paesi montani o con le adesioni più basse. Mentre a centropagina Condotel si testa lo sporting, la riqualificazione da Pesaro, la sfida nel rilancio del commercio e le vie diventano un brand. I bagnini a Fano attaccano, disastro al mare, scogli incompleti e poi sorpresa turismo in città, sempre a Fano, americani e neozelandesi. Poi il giorno più bello per Sensi, che è il giocatore di Urbagna, il 26enne di Urbagna in forza all'Inter, che ha detto sì a Giulia Amodio, 23 anni, conosciuta quando giocava con il Cesena e poi la denuncia, geloso, chiede di ritrovare la sua ragazza ma è procurato allarme. Allora nella pagina interna del Corriere Adriatico si parla di questa notizia, l'allarme aveva dato questo giovane un allarme per rintracciare la ragazza che secondo lui diceva, insomma era scomparsa, le ricerche, insomma tutta l'apprensione, tutto questo trambusto, ma il finale di questa storia è a sorpresa e finisce con una denuncia nei confronti dello stesso giovane accusato di procurato allarme perché in soldoni si era inventato tutto, non era vero nulla e aveva lanciato tutta questa allarme perché voleva rintracciare la sua fidanzata e quindi aveva chiesto rinforzi. Allora, rivoluzione visse invece, questa è la pagina del resto del Carlino, parliamo di calcio, la squadra in ritiro per Chianciano ma tanti storici sono rimasti a casa e dunque parla il Carlino di esclusioni eccellenti. Poi niente disdette, gli hotel sono pieni, primo bilancio più che positivo degli albergatori, il virus dirotta molti turisti nella nostra provincia e poi la Baia Imperiale, la discoteca che tutti noi conosciamo, al tempo del Covid ha cambiato pelle in sostanza, abbiamo appena qualcuno prova a ballare, noi abbassiamo la musica. Quindi diciamo questa nota discoteca nel fine settimana ha fatto entrare le persone all'interno, sapete però che non si può ballare, di conseguenza quello che si può fare è molto semplice, uno sta lì, ascolta la musica, fa due chiacchiere, sta al tavolino, beve qualche cosa ma guai a ballare in discoteca, non si può e quindi appena qualcuno accenna un movimento del corpo o comincia a ballicchiare, che cosa succede? Il DJ abbassa la musica. Andiamo avanti, Sensi ha detto sì alla sua Giulia, le ha dedicato una serenata, di spalla sempre in primo piano sulla prima del Carlino, poi l'Alma Fano, doppia missione per ghiacciuffare la serie D, ombrelloni tra le onde, il mare arriva in terza fila, Sassogna di Fano e poi sciocca Gabicce, il titolare di Adria Market stroncato da un infarto. Ma andiamo velocemente, prima siamo stati a Porto Novo, saliamo un pochettino a Falconara, a Palombina, da quelle parti là, guardate queste immagini, queste due fotografie del resto del Carlino, sapete che c'è stata questa tromba d'aria marina che ha devastato completamente un tratto di spiaggia, il prima e il dopo, sul nostro sito internet, abbiamo pubblicato subito dopo, grazie ai nostri segnalatori, anche un filmato ripreso da un condominio, da un palazzo lì di fronte, questa gigantesca tromba marina, questa tromba d'aria con questi lettini che volavano, un video che troverete sempre sulla nostra pagina appunto di YouTube, tra l'altro permettetemi di ringraziare davvero tutti voi perché l'altro giorno YouTube ci ha comunicato di aver raggiunto 10.000 iscritti, quindi è un piccolo traguardo, andiamo avanti, e quindi se volete iscrivetevi anche voi al nostro canale perché lì poi troverete tutti i filmati, troverete la rassegna, il telegiornale, i servizi del telegiornale separati uno per uno, quindi potete farvi la playlist, la vostra scaletta come volete. Ecco qua il Corriere Adriatico invece, tutto distrutto, guardate questi lettini che volano letteralmente, vengono risucchiati da questa turbina di vento e poi rilasciati, qualche lettino è stato ritrovato persino sulla ferrovia, insomma sono stati davvero momenti brutti e dobbiamo ringraziare il cielo che nessuno si è fatto male. A Falconara gli operatori alle prese con danni enormi dopo la tromba d'aria ma subito di nuovo operativi per sistemare la spiaggia, il sindaco Signorini dice una grande vicinanza, Acquaroli sensibile. Questa è l'altra pagina del Corriere, a pagina 19, vedete abbiamo 100 lettini rotti, 80 ombrelloni scomparsi, dice Alessandro Gioacchini che gestisce Mare Forza 9, un evento inatteso è stato un finimondo, la tromba d'aria si è formata all'imboccatura degli scogli ed ha travolto praticamente tutto, su 145 ombrelloni 80 non ci sono più e su 200 lettini la metà sono rotti. Così come dice Stefano Sensini, la tromba d'aria ci ha colpito al cuore dopo il Covid e le tante difficoltà dovute alla pandemia, ce la stavamo cavando bene, sabato è accaduta una catastrofe che non potevamo certo preventivare, c'era un allarme meteo ma nessuno poteva prevedere una cosa del genere. Ora serve aiuto, le attività non mollano già ieri la riapertura. E allora adesso il vaccino porta a porta, vedete le marche che comunque tutto sommato stanno andando relativamente discretamente bene insomma sul fronte delle vaccinazioni però chiaramente c'è questa ansia di vaccinare tutti quanti e allora adesso si pensa a questi tre camper più o meno, dovrebbero essere tre i camper che gireranno, saranno riconoscibili e gireranno nelle zone soprattutto interne e dove c'è un numero in calo dei vaccinati quindi in quei paesi dove c'è un po' di diffidenza, dove ci si vaccina di meno arriveranno questi camper che andranno a vedere casa per casa se qualcuno ha un po' di tempo per farsi una punturina. Le agende degli hub saranno comprese per evadere gli appuntamenti entro fine luglio, Salta Martini dice andremo nei paesi iniziando da quelli montani o con le adesioni più basse. No, vedete sono due i camper secondo il Corriere Adriatico per ogni area vasta. Quindi per ogni area vasta ci sono due camper. E qui come sempre sul Corriere Adriatico c'è la possibilità di vedere con anche i grafici com'è la situazione in questo momento. Intanto la paura del virus dirotta i turisti in provincia, gli albergatori stranamente sono tutti contenti, dice il nostro momento, e sono un po' in controtendenza anche perché da Pesaro a Fano, passando per Cabice, gli hotel sono pieni fino a settembre. Cecchini, degli albergatori fanesi, dice che poi quest'anno funziona anche l'effetto Mancini. Insomma, il turismo nazionale lancia l'allarme disdette. Le notizie sul Covid fanno fioccare le rinunce negli alberghi. Questo si sente un po' in giro. Però da noi, dice Fabrizio Oliva, degli albergatori di Pesaro, da noi non è così. Noi siamo pieni fino a metà settembre. Vediamo che l'aumento dei contagi nelle grandi città o anche all'estero sta dirottando il turista verso il centro Italia, dove ci sono alberghi per famiglie dai numeri più contenuti. Quindi si ha un po' più il senso, se vogliamo, anche della sicurezza. Abbiamo detto anche nei giorni scorsi che adesso andare nelle grandi città all'estero, dove non si capisce la lingua, non si conosce le strutture, non si sa in che mano si finisce. Insomma, andare e magari trovare anche la sorpresa, brutta sorpresa, l'amara sorpresa di essere contagiati, poi quando si è là bisogna trattare sulla propria salute, non è sempre una passeggiata. A volte va bene, a volte un po' meno. E quindi non si sa che sanità ti trovi in questi paesi. Allora è meglio non rischiare, è meglio stare qua. E quindi questa cosa sta effettivamente portando vantaggio al nostro turismo. Poi noi siamo un turismo molto più familiare, molto più tranquillo e c'è questo senso di sicurezza, di fiducia. Abbiamo clienti, addirittura dice Cecchini, degli albergatori di Fano, che ci chiedono quanto dista Fano da Iesi. Voi mi domandrete, perché? Perché a Iesi c'è la casa di Mancio, del Mancio, dell'allenatore della Nazionale, che sta trainando in modo incredibile e tanti turisti anche, sta portando tanti turisti nella nostra regione. Quindi quanto dista? Perché poi c'è anche questo pellegrinaggio alla casa di Mancini, dove evidentemente lui non c'è, probabilmente, ma ci saranno i genitori. Allora abbiamo clienti che chiedono appunto questa cosa. È incredibile, dice Cecchini ancora, ma aver scelto lui, quindi Mancini, come testimone delle marche, alla luce della grande vittoria agli europei, è stato determinante. Abbiamo poi anche un altro aspetto, quelle delle cantine dei vini. Pare una cosa banale, ma non è così. Abbiamo delle cantine, dice, eccezionali, che per tante ragioni non abbiamo mai fatto conoscere come si deve. Ora stanno uscendo allo scoperto con una operazione di marketing mirata. Noi, dice Cecchini, non abbiamo niente di meno di Umbria e Toscana, infatto di vini, ma come marchigiani abbiamo sempre preferito il basso profilo. Ora è il momento di far vedere chi siamo e quanto siamo ospitali. Sulla questione ancora dei contagi, oggi Benedetta Iacomucci ha intervistato Eugenio Carlotti, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asur. È un'intervista, come sempre, interessante, soprattutto in questi momenti, quando siamo tra l'imbre-lambra, come si dice, quando non sappiamo bene da che parte stiamo andando. Intanto i contagi purtroppo risalgono, questo è un dato di fatto, questi sono numeri, pura matematica, quindi contatti tracciati fino a 14 giorni prima e anche qualche resistenza da parte dei positivi nel fornire i nominativi per paura di inguaiare gli amici in vacanza. Allora la domanda è, i contagi risalgono e questo implica il tracciamento. Qual è la situazione? Carlotti risponde, i contagi stanno aumentando improvvisamente in maniera preoccupante, soprattutto i cluster nella popolazione giovanile e questi cluster sono la conseguenza della totale deregulation legata soprattutto agli eventi sportivi, leggi, festeggiamenti, vittoria europei. E poi i giovani, i giovani che non sono vaccinati. Il dato confortante è però che i ricoverati in terapia intensiva e i dati sulle ospedalizzazioni in generale restano bassi. Il vaccino quindi rende clinicamente innocua l'infezione, riusciamo a contenere l'ospedalizzazione. Sono cambiate le regole per il tracciamento. Domanda, risposta, con la delta sono cambiati i criteri, prima si risaliva ai contatti delle ultime 48 ore, ora si va indietro anche di 14 giorni. Ora, cosa succede se si finisce nella lista dei contatti stretti di un positivo? Cosa succede se io sono stato a contatto con un positivo? Beh, quello che succedeva è quello che è sempre successo, cioè almeno 10 giorni bisogna stare in quarantena, quindi bisogna stare a casa, bisogna stare in isolamento. Capite voi che la situazione già di per sé, solo al pensiero, fa venire la pelle d'oca. Al termine poi che cosa bisogna fare? Un tampone ovviamente, un tampone molecolare o antigenico, ma non in farmacia, soltanto all'Asur oppure dal medico di base. Questo è quello che viene scritto, ma poi ci sono tante altre informazioni che leggerete nell'intervista appunto della Iacomucci sull'edizione del Carlino di oggi, che appunto troverete in edicola. Quindi è interessante però capire, noi dicevamo l'altro giorno, in rassegna stampa, come sia fondamentale il tracciamento, quindi ritornare indietro non solo di 48 ore, ma addirittura di 14 giorni. Quindi cercate di ricordare, anche se state tranquilli, ma di avere sempre, come dire, non dico un'agenda dove scrivete i nomi delle persone che incontrate, perché poi a seconda di quello che uno fa, del lavoro che fa, della vita sociale che ha, è un po' complicato. Però cercate magari di tenere a mente, perché poi se succede è importante ricordare e dire questi nomi a chi è titolato a fare questo tracciamento. Quindi andare a telefonare, a chiamare a ritroso tutti i contatti che voi avete avuto. Chiaramente c'è qualche ritrosia, i giovani soprattutto, perché dico ma se io do quel nome, poi che succede? Non può andare in vacanza, gli rovino le vacanze e quindi magari uno sta zitto e fa finta di niente. Ma magari quella persona è stata contagiata e continua a fare quello che gli pare. Insomma questa è un po' la situazione che stiamo vivendo. Intanto i turisti riscoprono il centro città di Fano, presenti neozelandesi americani, riprese le visite ufficiali dopo lo stop sanitario. La novità è il percorso dantesco, però non tutto si può fare come prima. Per esempio c'è questo stop alla Fano sotterranea, che è sempre affascinante, ma non si può fare. Quindi visite guidate a distanza, questo sì, di sicurezza, nel centro storico di Fano. Questa è una fotografia scattata che ci rende subito l'idea di come appunto è bello rivedere anche queste scene così, dove tra l'altro non tutti sono turisti, ma c'è anche qualche intrufolato tra virgolette, c'è anche qualche fanese, c'è qualche residente, che incuriosito si ferma, butta lì l'orecchio per cercare di capire che cosa sta dicendo la guida turistica sulla città di Fano. È capitato anche a me, più volte mi sono fermato per sentire e per conoscere. Poi c'è sempre in animo, come Fano TV lo abbiamo fatto all'inizio, 15 anni fa nella nostra programmazione avevamo messo Pillole di Storia, che era un programma che appunto serviva per spiegare un po' gli angoli della città, gli angoli anche quelli nascosti, quindi un po' di storia. Ecco, c'è in animo di fare di nuovo questa operazione, quindi un'operazione legata alla storia della nostra città, perché c'è voglia di sapere, c'è voglia di conoscere. Intanto il mare si è mangiato gli ombrelloni, danni a Sassonia Nord, a Fano, due file e mezzo fatte fuori, il dito è puntato sulle scogliere incomplete. Sapete che Fano, quasi tutto, tutta la costa fanese è stata protetta dalle scogliere, ma ne manca un pezzo e questo pezzo è a Sassonia, Bagnicarlo. E qui il titolare Matteo Renzi, intervistato dai giornali questa mattina, dice siamo continuamente costretti a ricostruire la spiaggia per non far perdere un giorno di mare ai nostri clienti, mentre sul Corriere Adriatico dice occorre che finiscano i lavori a tutti i costi, altrimenti siamo sotto pericolo ogni volta che fa un temporale. Questa volta abbiamo perduto tre file di ombrelloni e siamo costretti a rimediare l'irrimediabile, dato che le file più vicine alla battigia sono quelle più ricercate. Cioè la gente vuole stare vicino al mare, quindi sono quelle che costano anche di più, ma sono quelle che vanno via per prime appena c'è una mareggiata. Questo è il tratto di spiaggia, vedete questo baldacchino, la torretta che è interessata dall'acqua. Insomma questa è un po' la situazione, stessa spiaggia, stesse mareggiate, parafrasando un po' la vecchia canzone. Intanto ieri Perfano è stata una giornata campale per quanto riguarda sotto il profilo degli incidenti, tre ne abbiamo contati, tutti descritti anche e pubblicati sul nostro sito internet, a proposito anche grazie ai segnalatori. Incidenti a rafica autoribaltate, nessuno è ferito gravemente, qui c'è l'elenco di tutti quelli che sono gli incidenti con tanto di fotografie, vedete qui siamo sulla Flaminia per esempio, quest'auto che è finita in un fosso, quest'altra lo stesso, insomma sono tutte auto che sono finite più o meno fuori strada ma senza grossi problemi, per fortuna. Andiamo adesso invece per raccontarvi sulle colonne del Corriere Adriatico di un lieto evento, quello del matrimonio tra Sensi e Amodio, ovvero Stefano Sensi e Giulia Amodio, sono tre scatti in questo articolo, tre scatti in cui si vede Sensi che sta con le mani appoggiate sulla faccia, l'altro più sorridente con la sua Giulia e poi un momento di commozione con questo abbraccio. Allora che cosa è successo? Beh insomma è successo questo, che Stefano Sensi da Urbagna, 26 anni ad agosto, piccolo genio del centrocampo dell'Inter, è convolato a giuste nozze con Giulia Amodio, 23 anni fidanzata da 5, conosciuta quando giocava nel Cesena, scrive Gianluca Murgia questa mattina, intanto sotto la fotografia del lancio dei palloncini fuori dalle cattedrale di Ostuni, lei infatti è originaria di Brindisi e quindi di fronte a 300 invitati, una trentina dei quali sono arrivati da Urbagna con un pullman, insomma un matrimonio da favola per un giorno che lui ha definito insomma il giorno più bello della nostra vita. Poi andiamo a Urbino invece, sono più gli studenti che i residenti, dobbiamo ripopolare il Montefeltro, l'ondei dell'opposizione insieme a Giovannetti e Cangini, interviene alla vigilia dell'iscrizione all'università, che cosa succede? Domani aprono, ripartono le iscrizioni all'università Carlo Bo di Urbino, quindi c'è ovviamente grande attesa per coloro che aderiranno. Però leggevo questi numeri che tra l'altro mi sfuggivano, eccoli qua, in una città, quindi Urbino, che attualmente conta circa 13.900 abitanti, pensate, gli studenti senza contare le tre scuole artistiche, liti e licei, sono circa 15.000, cioè più degli abitanti, questa cosa non la sapevo, 15.000 studenti e 13.900 residenti. Però chiaramente che cosa manca in tutto questo? La presenza, perché è vero che sono 15.000 studenti, ma se poi ognuno se ne sta davanti al computer a casa, chi in Lombardia, chi in Puglia, cioè ognuno nella sua abitazione, chiaramente Urbino resta lì a 13.900. Ecco, allora chiaramente bisognerebbe ridargli un po' di vita e quindi sperare, questo chiaramente non dipende dal Sindaco Gambini, non dipende dalla Giunta, dipende dal Ministero, dipende dalle regole, ma questo comunque è un auspicio perché si possa tornare al più presto in presenza e quindi ridare vita anche a una città così bella come quella di Urbino. Andiamo invece sulla pagina della Valle del Cesano, perché c'è un incidente segnalato sotto qui sulla pagina però che riguarda Fano, anche qui tutti gli incidenti che abbiamo visto poco fa, si perde con il navigatore in veste un tredicenne, schianti nel fine settimana in Viarco d'Augusto, Flaminia e a San Costanzo. Da Senigallia, lungomare Mameli contro il triathlon, residenti e operatori protestano tutti quanti, c'è chi ha aggredito verbalmente i vigili e i volontari della protezione civile nel tentativo di forzare il blocco. Quindi una manifestazione sportiva, perché il triathlon è questo che evidentemente per ovvie ragioni logistiche e organizzative ha impedito a qualcuno di passare in quella strada piuttosto che l'altra, ha esasperato gli animi e quindi qualcuno ha protestato. Poi ancora, da Roma a Senigallia senza assicurazione, un turista è stato multato dalla polizia, alla Rocca invece un pakistano è stato trovato con l'ashish. Parliamo di sport velocemente perché siamo in chiusura. Altro volto nuovo del Fano, vediamo questo Filippo Polcino, possibile nuovo direttore generale dell'Alma ed è la seconda nomina della gestione russo. A breve dovrebbe diventare il nuovo direttore generale. Beneventano con un passato a Foggia, Campobasso e Avellino. Conagliano è uno degli uomini di fiducia del patron. Oggi intanto la consegna delle domande per sperare fino a 27 luglio di tornare in serie C. Poi corsa contro il tempo per riacciuffare la Cil, il titolo del Carlino. Alma, oggi doppia missione della società a Firenze a Roma per depositare la documentazione necessaria al ripescaggio e alla riammissione. La Visse invece partita per il ritiro, ora mistero sull'attaccante, il nome ancora non si sa, proviene da un campionato estero e porta con sé un bagaglio di gol. Mentre chiudo con questa bella immagine di Alice Pagliarini, siamo sulla cronaca di Macerata, da Civitanova al meeting di Atletica Leggera, c'erano oltre 300 in pista, sul podio appunto c'è questa nostra fanese dell'Atletica Visse Fano. Chiudo con l'appuntamento di questa sera, Colli al Metauro, un territorio da raccontare, poi alle 20.30 invece prima c'è il telegiornale. Arrivederci.